Ciao ragazzi e benvenuti in questo ultimo video tutorial di War Robots. Nello scorso episodio eravamo rimasti che dovevamo prenderci Leo, un nuovo robot, diciamo che ho scelto il Leo perché il Leo è l'unico robot che è in grado di fare molti danni e di resistere a molti danni solo lui. Infatti io ho equipaggiato un Thunder e due Pinata perché il Leo Thunder e Pinata negli scontri radicinati è veramente qualcosa di devastante. Poi ho levato un Pinata perché non avevo abbastanza silver per mettermi un Pinata, l'ho messo dal Viteats al Leo per farmelo completo. Oggi faremo i silver per l'ultimo Pinata, da mettere al Viteats, il livello 20 e sbloccheremo l'officina. Quindi partiamo subito con i combattimenti. Oggi ragazzi ultimo episodio perché ormai diciamo che l'hangar l'abbiamo ultimato. Giustamente non può mancare la nostra mappa preferitissima, preferitissima. Iniziamo di pattern perché è la mappa a lunga distanza questa. Sclereremo come lo scorso episodio? Non si sa. Intanto andiamo a prendere il punto lì. Già ci sono dei Leo. Non proprio forti, però abbiamo un bel Golem Thunder che ci può dare supporto. Già lì ho visto che hanno preso dei punti. ma c'è il nemico già, c'è un Destrier. Ah tutti ok, tutti leggeri, va bene. Meglio così va. Dai e Golem. Madonna che laggata. Posto. Tocca al Cossack. Che poi l'aggancio serve anche per i robot che saltano perché ogni volta che saltano vi perde la mira. Quindi vi conviene loccarlo sempre. Ci ho 300. Uno è qua proprio. Se lo becco. No, troppo piccolo. Già Cossack forever proprio. Meglio eliminarlo subito perché sennò inizia a rompere le palle sti punti. E infatti. Eh cazzo. Valle golem. Grande. Allora noi abbiamo quale punto? Ok. Questi due dobbiamo cercare di prenderli. Questo è morto. E invece. Partita è abbastanza scialla. Easy. Ciao Patton. Spawna. Pisa che lo spawn è dall'altra parte. Eh infatti. guardate là che strage che stanno facendo. Faccio uno con le afid. Eh. se sta uno con le afid. Eh le punisher. Ora che l'hanno hoppate. Sono veramente forti. che male cagare nessuno. Adesso veramente utilissime. Ehm. Ah eccolo che era. Thundera afid. Guarda là. Guarda questo. Vabbè questo ha fatto anche il top dei danni perché le ha spanchillate tutti. Le ha spanchillate. Ma quante cazzo di afidi c'ha questo? Due. Bravo. Le afidi sono toste. Eh te l'ho fottuto io. Un altro. Prego. 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 Ma venga di qua. Venga di qua. Non vada. Non vadi di là. Ecco perché non debba. Addio proprio. Madonna. Beh sta partita comunque. Non abbiamo fatto un cazzo. Perché ci ha fottuto tutto quanto lui il danno. Oh calmi. 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 Vado a stare calmi cazzo. Che bordello ogni volta. Beh. Una partita easy. Scialla. Sprucchiamo anche con l'obiettivo. E infatti non abbiamo fatto proprio un cazzo. Ci prendiamo un misero oro. Però non livelliamo. Riprendiamo e sblocchiamo il laboratorio ragazzi. Laboratorio che è molto importante. Officina laboratorio. Officina che è molto importante. Perché questi questi punti che andiamo poi a prendere e sbloccare. Sono delle. È una nuova valuta. Questa nuova valuta ci consente di prendere delle armi e dei robot particolarmente forti. E diciamo che sono armi e robot di ultima generazione. Il gioco lo il gioco li chiama. Infatti questi robot sono gli ultimi del negozio. Sono tipo lo stalker che è adatto per fare. Per prendere i punti. E con l'abilità stealth diventano invisibili al puntatore. Quindi non lo potete puntare. Il carnage che è devastante con le due thunder. E anche lo scudo energetico che lo protegge è veramente forte. Il rhino che è un tank si si barrica con uno scudo che lo attiva frontalmente. Quindi è invulnerabile di fronte. Dei attacchi armi energetiche. Il fusion diciamo che è stato un po' sul classato dai nuovi robot che a breve metteranno. Questo tipo di robot in pratica ha tre armi secondarie. Le medie. Il setup di questo fusion è molto forte. Però ha l'abilità che un po' lo penalizza. Perché per attivare l'abilità di uno scudo energetico deve stare per forza ancorato al terreno. E non può muoversi. Poi vabbè le armi sono quelle pesanti che si prendono con i punti. Sono le Trident e le Trebuchet. Le Trident sono missilistiche e le Trebuchet sono energetiche. Le leggere abbiamo le Magnum. La Magnum. L'energetica. Molto forte. Poi come secondaria abbiamo il Taran. Che ve lo faccio vedere subito. L'arma energetica. E l'Hydra. L'arma missilistica. Tipo le Spiral. Fondamentalmente questi punti si fanno col passare del tempo. Cioè mettete in officina a sfornare i punti. Qui ogni quattro ore vi li vedrà. Col passare del tempo anche vi sbloccate i nuovi slot. Per mettere in coda nuovi punti officina. E... Potete anche acquistarli con gli ori. Ma io vi consiglio vivamente di non farlo. Perché non è vai l'avena. Sprecare soli ori per punti officina. Quelli c'è ragazzi vengono... Temporaneamente. E... Niente. Non so se siamo riusciti a prendere... A farci i soldi per il Pinata. Ma non penso. No. Non ci siamo riusciti. Perché qui... Niente. Ho venduto già tutto. Sfortunatamente non siamo riusciti a prendere il Pinata. Ma ragazzi. Sostanzialmente il Langar da... Che... E' ottimo per iniziare. E' questo qui. Diciamo che è... Un bel Vityaz Tundra del Pinata ci sta. Il Leon deve mancare col Tundra del Pinata. Perché è veramente devastante. Il Patton con le Punisher. Lo consiglio perché... Ora che hanno boostato le Punisher. E' veramente devastante. E... Come quarto robot ragazzi. Io vi consiglio di farvi un Griffin. Il Griffin. Il Griffin veramente è un robot formidabile. E' molto versatile. E' come il Cossack. Ha la capacità di saltare. E può essere montato con due armi medie e due armi leggere. Ecco perché è molto... Usato. Questo robot. Ve lo consiglio di usare o... Con... Con... Le Tulumbas e le Pin. Le Pin. Sono armi missilistiche. Le Pin sono quelle montate sopra. Le Tulumbas costano... Un bel po'. Hanno range 500. E per fare... Gli sniper è ottimo. Oppure montato con Taran e Magnum. E' anche micidiale. Montato plasma questo robot è... Formidabile. Cioè li... 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 Però peccano contro gli scudi energetici, ecco perché è buono farsi due tipi di griffin, uno plasma e uno missile, per adatti a ogni tipo di situazione in pratica, no? E niente ragazzi, io direi che questo tutorial possa finire qui, vi ho illustrato brevemente come avanzare nel gioco in modo veloce, e niente ragazzi, noi ci becchiamo con dei prossimi video che farò con il mio canale, il mio account principale, vi saluto. Ciao a tutti!